ed eccoci a parlare di questa partita tra Bayern e Lazio me l'avete chiesto io ultimamente ragazzi non so se ci avete fatto caso non ho proprio manco più le forze e le voglie di parlare dei post partita comunque parlo di questa partita perché comunque c'è qualcosa da dire e ve lo dico parlo in condizioni pessime perché mi sono fatto in onore del Bayern una bella leff da 9 gradi poi mi sono sparato un bel bicchiere di Nero di Troia Passera Scopaiola della Masseria Spaccafico non è che me la sto inventando è proprio così il vino andatelo a cercare lo potete trovare devo dire anche un vino decente e poi adesso ragazzi mi sto finendo dopo aver preso un bel tocco di cioccolata mi sto facendo un Baron Samedi un rum banalissimo abbastanza commerciale che comunque ha degli ottimi profumi andatevi a vedere il video dove ve ne parlo e comunque tu che stai vedendo questo video se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale clicca sulla campanellina per rimanere il giorno su tutti i contenuti lascia un like fallo subito che poi te lo scordi lo so comunque se riesci a lasciarlo prima di abbandonare il video ti ringrazio nostra famosa 76 dove comunque qualcosa ho messo come al solito perché lì un pochetto ho la velocità di scrivere qualcosa e dirvi le mie impressioni un po' al caldo allora parliamo di questa partita ragazzi parliamoci chiaro quando abbiamo estratto il Bayern Monaco per quanto era chiaro che avremmo trovato un qualsiasi avversario molto molto duro col Bayern Monaco abbiamo subito pensato penso tutti non credo chi dice il contrario che sarebbe stata quasi impossibile però il caso ha voluto che poi incontriamo il Bayern Monaco nel suo peggior momento quindi riusciamo a fare un risultato inaspettato oggi rimpiangiamo addirittura di non aver fatto meglio cioè se ci avessero detto ma tanto all'andata vinciamo 1-0 e poi ce la giochiamo a ritorno non ci avrebbe creduto nessuno tratta che nessuno mi pare che se la sia giocata all'1-0 della Lazio alla partita di andata però invece poi a vedere un po' come sono state le dinamiche a vedere un po' la partita a vedere il Bayern Monaco in quel momento specifico ci è mancato quel famoso secondo gol che ci poteva dare magari quella sicurezza e quella carica in più per lottare lottare qui a Monaco il secondo gol non è venuto e il Monaco devo dire non questa corrazzata che l'ho scritto anche su Instagram il nostro famoso 76 non questa corrazzata che dovevamo affrontare una squadra che comunque ha giocatori perché i giocatori fanno la differenza e lo abbiamo visto quanto soprattutto lì in attacco possono fare la differenza giocatori fanno la differenza è una è semplicemente con una squadra cinica e diciamo di esperienza arriva a ottenere un 3 a 0 che in realtà poi se vado a vedere i gol mi viene anche da sorridere come siano venuti con Provedel che sicuramente poteva fare meglio una difesa un po' così forse addirittura un calcio d'angolo che è stato prolungato un po' troppo perché era giusto se dai un minuto e visto che non era successo nulla per poter allungare di 30 secondi non concedere quel tiro però sono insomma sottigliezze a cui non mi voglio aggrappare perché alla fine se vado a leggere la statistica vedo 24 tiri in totale di cui in varie 7 se mi ricordo bene verso lo specchio della porta contro un 7 tiri in totale e 0 è questo il punto mi fa incazzare 0 verso la porta allora questo 0 è la cosa che veramente mi ha fatto andare per traverso la serata perché ripeto che potessi uscire col Bayern ci sta che potessi perdere anche di 2-3 gol con Bayern ci sta ma che tu in una partita del genere arrivi a fare 0 tiri in porta ecco questo non ci sta non ci sta perché comunque tu dopo 5 minuti con Luiz Alberto questa è una cosa che in pochi si ricordano e hanno visto mi ero notato subito dopo 5 minuti Luiz Alberto gli viene dato una palla al centro dell'area di rigore che lui invece di girare di prima e lei avrebbe fatto il colpo del mago stoppa per poi girarsi ma nel momento in cui stoppa i difensori recuperano il tempo perso e gli vanno a bloccare il tiro avessi tirato di prima e infatti lì questa cosa mi è rimasta impressa probabilmente probabilmente un'occasione veramente d'oro sarebbe arrivata nei primi 5 minuti in realtà non facciamo questo in realtà non tiriamo in porta ci sono almeno altre due occasioni non mi ricordo adesso più chi sono i giocatori ma io ho visto due occasioni dove potevamo veramente tirare verso la porta e abbiamo deciso di invece come al solito cercare un compagno inesistente o comunque in ritardo al centro dell'aria fatto sta che tu in una partita del genere arrivi a fare zero tiri e lo arrivi a fare anche quando tu stai sotto pesantemente quindi dici oh cazzo sto sotto così tanto devo cercare di attirarla dovunque sta palla pure da centro campo ci provo a tirare pur di cercare di beccare la porta perché questo il calcio vuole vuole che tu tiri per cercare di segnare e portare a casa un risultato invece no non si tira si cercano sempre questi filtranti questi giochetti queste cose molto belle se riescono ma molto inutili se poi alla fine non portano neanche al tiro ci ha provato una volta ci ha provato due volte tre volte quattro volte cinque volte perché alla fine noi nell'aria ci arrivevamo in qualche modo io ho contato almeno sette occasioni in cui non abbiamo tirato due proprio mi ricordo che potevamo tirare tranquillamente sette dove potenzialmente si poteva sviluppare una situazione pericolosa al centro dell'aria ma volendo si poteva anche tirare quindi sette occasioni perse dove tu non hai tirato e non sei riuscito a trovare nessuno in area e questo è un peccato poi se ci metto che un allenatore con una situazione del genere invece di mettere dentro che ne so io a un certo punto mi aspettavo ho detto vabbè ora arriverà il punto che butta Castellanos leva immobile mette i Saxer ma non leva io mi aspettavo che non levasse Anderson lasciasse Anderson e Castellanos davanti con due dietro tipo Zaccagni e i Saxer che potevano dargli palloni io mi aspettavo che arrivasse con un 4-2-4 una cosa del genere perché comunque almeno a provarci a fare un gol almeno per dire vabbè ho fatto un gol me ne vado veramente a testa alta perché molti ho sentito siamo a testa alta no sei un fregnone perché tu all'andata potevi fare gol e nulla hai fatto e al ritorno hai preso tre pappine come niente hai fatto la figura del peragottaro del coglione e quindi a testa alta fino a un certo punto perché quando hai fatto 0 tu rimporta in Champions a testa alta te che a testa alta te che non hai fatto una bella figura secondo me vedete che vengo a sciola che c'ha con la secca ho 20 euro però è buono ma non sapete allora quindi ragazzi mi ruote proprio perché comunque 0 tiri non si possono vedere 0 tiri dai su cioè una partita del genere ripeto poi è ragionato sul 2 a 0 ma prova qualcosa ho sempre gli stessi cambi ma butta dentro un ragazzino è l'ultima partita dei Champions stai ormai a uscire ma butta dentro un sana Fernandez ma prova qualcosa di diverso senza parlare del dopo partita del dopo partita dove allora a me mi avete sempre rotto il cazzo ve lo dico perché tanto me lo rompete da anni nonostante ho ragione sono 3 anni che ho ragione però facciamo finta che non ho ragione mi rompete il cazzo che non capisco niente mi avete sempre detto va fatto l'allenatore quando ogni volta dico che questo è un allenatore limitato ma limitato seriamente perché non riesce a cambiare cioè lui dice che non ha gli uomini ma se non è gli uomini cambia un modulo poi ti dico il modulo non è che lo devi cambiare su ogni partita però ti devi trovare un'alternativa che nel corso della partita se una cosa non va quante volte avete sentito in 3 anni a questa parte dire questa cosa se una cosa non va hai comunque un modulo alternativo un gioco alternativo da poter dire ragazzi mettetevi in quest'altra posizione cerchiamo qualcosa di vero cerchiamo di sorprendere l'avversario invece no l'avversario ti legge ti capisce e ti massacra e tu stai lì se a fare zero ti rimporta perché tu devi cambiare i Saxen con Felipe Anderson immobile con Castellanos e Pedro con Zaccagni Mera Convissino con Cataldi perché adesso non abbiamo novella è matematico la cosa lui cambia solo gli uomini ma il problema non sono gli uomini a un certo punto evidentemente il modo in cui giochi e ripeto mi avete rotto il cazzo da 3 anni perché va a fare tu l'allenatore se tu che capisci ma che cazzo ne sai che cazzo ne sai poi ieri arriva uno come capello e adesso ditemi ebbeti che non siete altro ditemi se uno come capello si può criticare che gli dice a Sari bello mio ma se il 433 non funziona e dopo 100 minuti ancora quelli te stanno a fare una capoccia così evidentemente c'è da cambiare qualcosa non negli uomini ma nel modulo e quello che gli risponde il banchiere io non cambierò mai il modulo manco per sogno cambiò il modulo allora sei un coglione ed ecco qui che esci ecco che esci con l'HZ ecco che esci dall'Europa League ecco che esci dalla Conference ecco che esci dappertutto ecco che perdi in Coppa Italia ecco che per fare figura di merda e ricordo che l'unica due volte che hai vinto qualcosa è quando ti hanno fatto cambiare l'idea quando hai dovuto lasciare le tue idee del cazzo Chelsea e Juventus quando si è ribellato l'ospedatoio e Ronaldo ha detto a me è quello che dici tu non me ne frega niente perché il caccio è un'altra cosa allora hai recuperato hai cominciato a risalire la china allora sei arrivato a uno scudetto che nessuno ti ha ringraziato e tu dici a me ne manco mi hanno ringraziato ma ti hanno ringraziato di cosa che se con le tue idee stavi stavi in mezzo a metà classifica è normale che chi era dentro l'ambiente diceva ma che ti hanno ringraziato di cosa che per poter vincere lo scudetto ti hai potuto mettere all'angolo e Chelsea uguale e Chelsea uguale poi si poi dici no però hai visto The Elite ha detto eh ma eh no ma con Sarri ho imparato ma probabilmente insegnerà pure qualcosa a qualcuno ma nel totale sei uno che non sa dare nulla il miglior Napoli di sempre cioè la creatura di Sarri non ha vinto una beata mazza rendetevi conto ha vinto sempre con creature che non sono le sue lui stesso le disconosce Juventus e Chelsea lui le disconosce perché a dicembre ha dovuto lasciare le sue idee quindi l'unica creatura vera anzi le uniche due creature che lui che lui celebra sono Empoli e Napoli non lasciamo perdere l'Empoli ditemi con Napoli cosa ha fatto grande spettacolo così ma in sostanza in sostanza è qui uguale qui ragazzi siamo arrivati al terzo anno mi hanno detto tutti no devi aspettare no il primo anno no il secondo anno no devi aspettare al terzo adesso il terzo invece mi si viene detto no perché probabilmente è finito un ciclo un ciclo mai iniziato però e comunque io spero che sia finito questo ciclo perché sento addirittura di dovete aver ho sentito un lotito dovete aver fiduato nel progetto della società e che se il progetto include Sarri cioè lasciamo proprio perdere ragazzi lasciamo proprio perdere uno che comunque dà la colpa a tutti tranne Gas a se stesso cioè ditemi voi ditemi voi comunque siamo usciti come ripeto in modo quello che statisticamente era giusto che uscissimo abbiamo avuto le nostre possibilità ce le siamo mangiate sia l'andata che il ritorno immobile si conferma ragazzi voi mettete quello che vi pare io non dico che dovevi segnare però porca troia tra Milan e Bayern Monaco non sei riuscito a mancappiare la porta è quello che mi stupisce a un metro dalla porta col Milan sei riuscito a tirarla fuori e a un metro e mezzo contro il Bayern Monaco sei riuscito a tirarla fuori uguale cioè cioè ragazzi l'ho detto oggi come oggi l'allenatore non cambierà niente la società invece secondo me a giugno deve cambiare molto e molto deve cambiare tra panchina e rosa mi spiace ma bisogna cambiare e dare altro ossigeno vediamo come va a finire questo questo campionato però però io basta cioè veramente basta 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 ho cercato di dare fiducia per cercare di autoconvincermi che mi sbagliavo sempre sempre e comunque sono tre anni che mi sentite dire spero di sbagliarmi cioè io la penso così ma io spero che avete ragione voi per il bene della Lazio ho sempre sperato che aveste ragione voi a darmi del coglione a darmi dell'incompetente a dirmi tutto quello che mi avete detto e che io ho sopportato e ho pure lasciato nei commenti perché speravo che avesse ragione come a dire però sai quanta ragione invece no ragazzi incominciate a mettere in testa che ho sempre avuto ragione io e torto voi e purtroppo più andiamo avanti e più ah poi senza scordarci che qui chiudo il video che ho sentito pure il contatto il famoso contatto che si era andato in Germania è andare a vedere la partita io ho mandato un messaggio così perché pensavo lui so che sta in Germania ma lui sta in un'altra città adesso è in Hamburgo se non mi sbaglio e gli ho mandato un messaggio dicendo ma l'hai vista la partita lui mi ha detto sì ma era lo stadio era lo stadio a quel punto gli ho mandato gli ho fatto lo squilo abbiamo parlato per qualche minuto cioè ragazzi abbiamo parlato soprattutto di Sarri e ripeto mi ha detto un paio di cose che io non vado a riferire adesso ma che per me cioè gli ho detto guarda grazie perché pensavo di essere un folle pensavo di essere un matto ma con queste due cose che mi hai detto so e posso continuare ad andare in giro in testa alta perché ci ho sempre visto lungo e queste due cose che mi ha detto che avvenivano all'interno della Lazio e che sa che caratterizzano secondo me Sarri farebbero capire se solo non le voglio dire ma cioè ragazzi fidatevi è meglio che Sarri vada via è meglio che Sarri vada via perché non è non è quell'allenatore che molti credono e chi è a contatto con lui tante volte potrebbe dirvi cose che che a me sono state dette e che mi tengo per me perché altrimenti poi dici ancora ma ammazza ce l'hai sempre con Sarri ma così è meglio che me le tengo per me però sappiate che mi rincuorano e che mi fanno dire ho sempre avuto ragione ragazzi ci vediamo presto con un prossimo video e niente speriamo per la prossima olive dolci